buongiorno a tutti che dire sono stupita del risultato non pensavo assolutissimamente che con il limite di birra potevo cucinare un buonissimo panettone in casa guardate che bella alveolatura tutto interamente impastato a mano ma non neanche l'impastatrice e penso proprio che non la comprerò questi risultati mi piace? a me si puoi come è morbido e come è buono guardate guardate la sofferenza incredibile eh si ci vuole solo un po di pazienza però si si ha si fa tutto jingle bells chime in jingle bell time dancin' and cransin' and jingle bells sway in the frosty air what a bright time it's the right time we're gonna rock the narrow way jingle bell time it's a swell time to go gliding in a one horse sleigh giddy up jingle horse pick up those feet jingle around the clock mix and mingle and a jingle and beat that the jingle bell that's the jingle bell that's the jingle bell that's the jingle bell Grazie a tutti